Eccoci. Ora sì, ora mi si sente. Buonasera di nuovo a tutti e a tutte. Riprendiamo il nostro cammino. Il secondo punto. Stasera in due parti lo svilupperò. La prima parte è un po' che credo sempre fondamentale. Vorrei riuscire a dare delle indicazioni per come stare di fronte a questi racconti e poi ovviamente qualcosa sul racconto. Che abbiamo dentro lo divideremo in tre parti. Ma come sempre, per ricordarci, proprio per entrare dentro questo grande libro, questa grande esperienza tramandataci, fermiamo un attimo i nostri pensieri, fermiamo le nostre corse, anche i pensieri dentro di noi. E ci fermiamo a questo solito minuto che ci prendiamo di silenzio. perché la parola possa illuminare la nostra mente e allargare il nostro cuore. Parlerò a voce un po' più alta. Vorrei stasera dare anche un attimo una cosa che ogni tanto non abbiamo sempre fatto, ma che invece deve rientrare un po' nelle nostre abitudini. Vorrei all'inizio leggere il brano, poi dopo entriamo dentro. Quindi qualcuno che ha la Bibbia davanti, vorrei che leggesse la Genesi, quindi dal versetto 4 del capitolo 2, fino, la leggiamo anche se poi non la facciamo tutta stasera, ma intanto lo riascoltiamo tutto, fino a tutto il capitolo 2. Leggo io, che ho davanti la Bibbia. Perfetto, perfetto. Benissimo. Ti chiami, com'è? Cille? No, è mio figlio questo, io sono Marilisa. Ciao Marilisa, ciao. Io sono Marilisa. Vai, grazie. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra. Nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison. Esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è Fino. Vi si trova eppure la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gikon. Esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre a Oriente di Assur. Il quarto fiume è Leofrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. E il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta dall'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse Questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie. e non provavano vergogna. Hai telefono spento Gianni. Ci piace tanto vederti parlare, ma magari si sentiamo. Va bene. Dicevo che questa volta ripartiamo proprio dal capo di questo capitolo, quindi non mi perdo, non prendo del tempo per fare una sintesi, per entrare dentro, ma mi piace però rileggere di nuovo quello che uno dei, probabilmente, uno dei commentatori più importanti del libro della Genesi, dice proprio all'inizio in cui inizia a affrontare questo capitolo. Questo commentatore è Walter Brueggemann. Brueggemann, non so se si dice Brueggemann o Brueggemann, non lo so. Dice così, nessun testo nella Genesi e probabilmente in tutta la Bibbia è stato più usato, interpretato e frainteso di questo. E questo vale sia per la teologia spiccia, popolare, sia per la dottrina della Chiesa. Quindi anche a livello ufficiale, capite? Il testo è stato sottoposto dalla tradizione dommatica a una tale sovrapposizione di messaggi che in casi come questo il primo e forse precipuo compito dell'interpretazione è distinguere tra le affermazioni del testo e le sovrastrutture che vi sono state aggiunte. Quindi siamo di fronte a qualcosa sta dicendo questo Bruegerman e siamo di fronte non è una incomprensione o un travisamento che non ha avuto effetti anzi ha avuto degli effetti molto forti e questo sia nella coscienza popolare la teologia spiccia lui la chiama la coscienza popolare ma anche nella dottrina ufficiale cioè nel modo di intendere vorrei siccome qui si parla proprio dei fondamenti sono i racconti del Bereshit dell'inizio del fondamento dell'archè anche proprio del nostro modo di pensare Dio di pensare l'uomo di pensare la vita il rapporto che abbiamo con Dio e diceva Bruegerman che la cosa che bisognerebbe fare sarebbe quella di liberare il testo da tutte le nostre da tutte le sovrastrutture di cui è stato di cui è stato riempito oggi teniamo presente quello che noi sappiamo sulla sulla vita sulla nascita dell'uomo anche anche se lo sappiamo in maniera vaga e confusa sappiamo che questa non è forse la cosa che ci siamo detti fino alla nausea la storia scientifica di come è nato l'uomo questo in senso stretto non è un racconto di creazione ma è come se fosse uno studio ma più che uno studio vorrei proprio dire un fermarsi a pensare che cosa è l'uomo le sue relazioni fondamentali il suo rapporto con Dio il suo rapporto con l'altro il suo rapporto con gli animali con tutto il mondo quindi non siamo di fronte a un racconto che ci dice come è nato l'uomo ma siamo di fronte a un racconto che è come una riflessione profonda su su quello che ci costituisce come uomini e che ci fa e che ci fa esistere sulle domande più importanti e qui io vorrei fare questa premessa dove proviamo come sempre non è che dico non possiedo la verità dico solo delle cose così come mi vengono da dire una delle cose a cui siamo abituati è quello di pensare che lo si dice in tutti i modi che la Bibbia è il libro della rivelazione di Dio quindi dire un libro di rivelazione di Dio è come dire Dio qui è sia un genitivo soggettivo che oggettivo cioè Dio che ci rivela le cose ma è anche un libro che ci rivela Dio quando parliamo di questa rivelazione per noi la rivelazione che cos'è? che cosa vuol dire che è il libro della rivelazione? che questo libro contiene delle verità su Dio sull'uomo sulla vita sul mondo sulla storia ovviamente verità assolute e quindi la rivelazione sarebbe che Dio che ci comunica queste verità come se fossero delle idee ora se è così se è così ci viene da dedurre che allora è come se la Bibbia dicesse che l'uomo è un contenitore vuoto che Dio riempie ora vedete tenete presente che anche senza mettere in gioco le cose ultime le cose più importanti della vita insomma ora sono importanti quelle che dico però cercate di capirmi se pensiamo alla scuola che cosa come lavorano gli insegnanti con i bambini fin dall'asilo alle scuole elementari alle medie poi con i giovani alle superiori con i giovani all'università lavorano con quest'idea di passare una cultura di riempire questi bambini e poi questi ragazzi e poi questi giovani di conoscenze di idee la scuola non è questo noi sappiamo che la scuola non funziona così perché anzi l'idea che che un bambino sia un contenitore vuoto da riempire da riempire di nozioni da riempire di idee è una sensazione che ci ci dà anche fastidio ma fin dal mondo dei greci di Socrate no e dei filosofi questa idea è stata è stata annullata insomma è stata allontanata dal pensare dal pensare ora la cosa strana è che noi non ci rendiamo conto che tante volte prendiamo la Bibbia come un libro di risposte come se Dio ci trattasse da contenitori vuoti dove lui ci mette almeno le idee più importanti no quelle che riguardano Dio la vita perciò nei racconti della Bibbia noi troviamo delle verità assolute e l'idea di trovare dentro la Bibbia invece qualcosa che stona è per noi inconcepibile invece vedremo che dentro questi racconti c'è qualcosa che stona con il nostro modo di pensare quindi io direi e questa cosa la ritengo molto importante che che non è un libro la Bibbia è un libro di rivelazione nel senso che ci dona delle risposte ma direi che è davvero maioetica cioè ci fa delle domande ci fa pensare ci mette in una in una condizione di cercare qualcosa di cercare delle risposte non ci sono nella Bibbia molte risposte io mi ricordo quando era una cosa che diceva sempre De Benedetti quasi tutte le volte che iniziava un corto diceva sempre nella Bibbia non ci sono risposte quelle poche risposte che ci sono non ci servono e tutte le risposte che noi cerchiamo nella vita nella Bibbia non ci sono e aggiungeva poi questo ci sono invece le domande tutte le domande che contano perché e questa cosa noi facciamo fatica a rendercene conto perché lo scopo di una educazione non è quello di riempire di un vuoto ma è quello di rendere capaci di camminare lo scopo di un'educazione è quello di rendere una persona capace di pensare e di muoversi nella vita ecco che cosa è qual è lo scopo del parlare di Dio quello di renderci persone capaci di muoverci nella vita questo è importante quindi non ci dà non risolve i nostri problemi mai nessuno e adesso poi lo vediamo leggendo questo secondo me però è la cosa più importante quindi di fronte a un racconto come questo la cosa forse più importante non è tanto cercare di capire qual è il messaggio ma e questo però è anche un po' più complicato è più difficile è cercare di rendersi conto di che cosa questo racconto può fare in noi perché questa è un'altra delle cose importanti la parola il linguaggio la comunicazione non è fatta per dare informazioni ma soprattutto la parola di Dio è una parola che fa vi ricordo disse e quello che dice fu accade quindi la parola di Dio non ha uno scopo di informare ma ha lo scopo di far accadere e che cosa deve far accadere lo dico fino alla nausea questo Isaia 55 versetti 11 la mia parola è come l'acqua scende scende dal cielo per far sì che i semi che sono nella terra possano diventare un albero un albero che fa le foglie che fa i frutti che fa i semi la parola di Dio ha lo scopo di far maturare quello che è dentro di noi io vorrei proprio dire di mettere in pista la nostra mente la nostra mente e anche il nostro cuore il nostro pensare e anche il nostro amare io direi che se perdiamo di vista che la parola di Dio ha questo scopo allora siamo quelli che si pensano io credo uno dei motivi per cui non si riesce a parlare con i giovani oggi e non solo con i giovani è quello di aver insegnato una religione un modo di pensare dove Dio è la risposta a tutto e poi ci si rende conto oggi che Dio non è neanche almeno quello che noi possiamo valbettare di Dio non riesce a essere una risposta neanche alle cose più elementari quindi dobbiamo proprio cambiare il nostro approccio e trattare il testo per come ci viene raccontato che cosa ci dice questo secondo racconto faccio una scernita poi magari con le domande si può approfondire anche cose che io adesso tralascio vorrei andare subito vedete anche qui anche in questo racconto qui non viene presentata la creazione dal nulla anche qui c'è già qualcosa manca qualcosa ma c'è già c'è già c'è già nel giorno in cui Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestra era sulla terra nessun'erba campestra era spuntata non ci si pone questo problema della creazione nella Bibbia perché non è questo lo scopo del racconto ecco al versetto 7 la menzione allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente allora purtroppo in italiano c'è la parola suolo e la parola uomo e sono parole che hanno un suono differente nel test braico in realtà queste due parole pensate suolo terra si dice adama adama quindi c'è la parola adama e Dio invece prese l'adama e fece l'adam avete presente vuol dire che manca l'ultima vocale ma si dice che la consistenza dell'uomo è quella è essere terra noi non siamo qualcosa di diverso dal mondo in cui siamo noi siamo un'emanazione non siamo solo questo ma una parte di noi è la terra quindi non il rapporto che abbiamo con la terra in qualche modo è il rapporto che abbiamo con noi ma possiamo anche dire viceversa il rapporto che abbiamo con noi è anche il rapporto che abbiamo con la terra in genere può succedere noi ci si fa la domanda poi pensate un po' le risposte ma tante volte le persone che hanno meno cura di se stesse che hanno più indifferenza anche verso se stesse per tanti motivi per le esperienze della vita perché non si piacciono perché vorrebbero essere differenti capita spesso che questo tipo di rapporto è anche il rapporto che poi si vive con la terra perché non si riesce a scenderci in questo vedete poi questo gioco quasi di parole allora il Signore Dio plasmò l'uomo beh c'è già l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narisci un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente qui ci si può vedere pensate un po' che cosa dice che esiste l'uomo ma l'uomo può non essere un essere vivente cioè è quasi come dire che c'è una nascita ma ce ne vuole anche un'altra una nascita non basta ce ne vuole anche un'altra e l'altra nascita che deve venire è una nascita che avviene con l'alito il respiro il fiato di Dio e pensate proprio pensate anche questa immagine ora bisogna stare attenti a tutte le forme esagerate di antropomorfismi cioè Dio è un modo nostro di parlarne in questo modo ma di per sé andrebbe lasciato stare ma pensate questa idea di questo Dio che in qualche modo perché possiamo dire così bacia la terra e questo dà origine alla vita se ci pensate è un'immagine veramente bella non è non è solo capito un colpo di magia è proprio in un gesto d'amore in un gesto di in un rapporto che è fatto di cioè Dio non comunica un'idea o un comando e in questo racconto neanche una parola ma comunica il fiato di Dio soffiare nelle sue narici è il suo respiro era provato un po' a pensare quello che da dove nasce questo respiro che cosa colpisce questo respiro noi siamo il Dio che bacia la terra è veramente un'immagine un'immagine molto bella questa e poi ancora e viene detto piantò l'uomo nel giardino di Eden lo collocò l'uomo che aveva plasmato qui l'immagine è proprio molto forte e l'opposto nel giardino dell'Eden va dal versetto 15 viene detto perché lo coltivasse e lo custodisse i due verbi sono tradotti bene così il primo coltivasse è proprio il verbo del lavorare addirittura è il verbo havad e pensate havad è anche la radice del verbo servire servo quindi in questa idea di coltivare e shomer custodire shomer in ebraico è un verbo proprio particolare perché si custodiscono le cose preziose non si custodisce quello che non ci non si custodisce quello che è importante cioè qualcosa che ha un valore ma non lo ha per me si custodisce quello che è prezioso per me allora Dio in qualche modo affida all'uomo la terra come una cosa preziosa per lui poi c'è questo versetto 16 che lo riprendiamo quest'altra volta quando faremo il discorso sul peccato perché tu potrai mangiare si abbina poi al racconto successivo di quando Eva e poi Adamo ascoltano il serpente e mangiano il frutto mentre invece vorrei fermare la nostra attenzione su questa vorrei dire seconda immagine che ci viene data di Dio pensate un po' ascoltatelo questa cosa no? Dio ha fatto tutto questo ha fatto l'uomo con un bacio lo ha messo nel giardino perché lo coltivasse lo custodisse come una cosa preziosa e il Signore disse non è bene che l'uomo sia solo ora vorrei che stessimo proprio dentro il racconto non andate a pensare le cose le definizioni dommatiche stiamo dentro il racconto c'è questo Dio questo personaggio letterario pensiamo al racconto che ha fatto l'uomo l'ha fatto lui l'ha fatto poi non è che l'ha fatto in un modo distaccato in un modo vediamo come viene viene ci ha messo il suo alito ha fatto l'uomo lo guarda vi ricordate come era nel primo racconto Dio faceva le cose poi arrivava la sera e le guardava e diceva che bello vi ricordate quel racconto in ebraico suonava chi tov chi che tov bello che bello qui invece c'è questo racconto Dio guarda e dice lo tov lo in ebraico vuol dire no non la negazione pensate un po' com'è differente dal chi tov che bello a lo tov ora però pensate stiamo dentro il racconto non andate nella teologia non andate nella dommatica è come se Dio dicesse ho fatto qualcosa che non va molto bene che non funziona molto è come uno che fa un quadro ora fa un quadro fa una statua scrive qualcosa poi la rilegis no non va bene pensate che che immagine ci viene data no perché se noi si prende il nostro catechismo se si va nella teologia se si va nel mondo della dommatica Dio è l'essere perfettissimo noi non abbiamo in testa la possibilità che Dio faccia qualcosa di non perfetto e invece Dio che l'ha fatto lui l'uomo lo guarda quello che ha fatto e dice no così non va bene dicendo così è come se dicesse c'è qualcosa che manca ma guardate com'è il racconto il racconto qui è veramente pazzesco perché Dio non lo sa che cosa ci manca non se ne rende conto e allora che cosa fa guardate questo racconto è da impazzire perché allora che cosa fa allora il Signore Dio sentite che gli viene in mente plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi quello sarebbe stato il suo nome a me mi viene in mente non so se a voi vi viene in mente quando qualche volta si sente dire qualcuno lo vedo un po' solo senti prendi un cane prendi un canino oppure piadugati in casa cioè in questo racconto state lontani dalla teologia se no non si riesce a leggere questi racconti e quindi anche a scoprire che cosa ci vogliono dire non sto dicendo che Dio fa le cose sbagliate sto dicendo che in questo racconto ci viene presentata questa situazione che c'è qualcosa che non funziona e che e che il personaggio Dio che c'è in questo racconto non sa che cos'è che non funzioni allora pensate che fa gli animali e pensate poi dice ogni sorta di animale selvatico e tutti gli uccelli tutti gli animali cioè non è che dopo uno o due ha capito nel racconto sembra proprio di dire che Dio va proprio una ricerca infinita cioè troverà è come se dicessero alla fine lo trovo qualcuno che va bene per l'uomo e invece no non riesce a trovare niente e allora che cosa fa? allora il Signore Dio a versetto 21 fece scendere un torpore tardemai in ebraico ma lo vediamo un torpore sull'uomo che si addormentò gli tolse una delle costole rinchiusse la carne al suo posto e il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo vedete anche qui c'è un gioco di parole che in italiano si perde per forza perché in italiano si dice uomo e poi si dice donna oppure maschio e femmina no? in ebraico invece è molto diverso perché si dice ish isha sentite è la stessa parola solo che mentre prima era adama e si toglie la vocale finale ish isha si aggiunge la finale e quindi questo si perde un po' perché in realtà questo discorso di questa costola non vuol dire solo costola questa parola la tradizione migliore sarebbe proprio l'idea di un uno che viene diviso in due capite come funziona questo di un uno che viene diviso in due però quello su cui mi vorrei fermare prima è che cosa ci sta dicendo questo brano e qui diventa importante perché io vi chiedo è una rivelazione di una verità assoluta questa e allora che cosa ci sta dicendo la Bibbia che siccome l'uomo da solo si annoiava Dio gli inventa la donna perché l'uomo non si annoi più possibile cioè siccome non sto bene da me allora nasce la donna che quindi è una risposta a un mio problema davvero le donne sono la risposta al problema dell'uomo del maschio beh è una concezione strana questa no non la sentite è un po' storta è molto storta no qui bisogna stare attenti quando siamo di fronte a queste parole no perché perché avrei voglia di dire questa cosa l'ho sentita la prima volta la prima volta che l'ho sentita è dalla Lidia Maggi e poi sono stato proprio a studiare per vedere proprio se era possibile questa lettura perché mi sembrava un po' troppo femminista ma in realtà è proprio così cioè qui sì che c'è un peccato quasi originale di concepire la donna come una risposta per il problema dell'uomo perché la parola tra l'altro un aiuto che gli sia simile vedete non si riesce a tradurre bene che negdo simile vuol dire che gli sta davanti vedete che gli sta davanti uguale quasi contrapposta cioè sta dicendo con questa parola che la donna non è la risposta all'uomo nel senso che va a riempire i suoi buchi che negdo ha questo significato non è il riempimento di un vuoto ma è qualcosa che sta davanti quindi se l'uomo è una cosa che ha dei vuoti la donna non è che va a riempirgli i vuoti ma sta così con lui perché in realtà questo era che negdo vuol dire così è come allo specchio vedete perché quando si dice che a volte leggere male i testi produce dei grandi problemi nella nostra mentalità e qui abbiamo concepito noi la donna a servizio dell'uomo pensate ora anche solo ora non vi mettete a ridere e su questo io dopo non risponderò ora avrei stato data la possibilità alle donne di apparecchiare l'altare così ci potete mettere l'acqua il vino nel calcio dopo ci si pensa a noi quello che cosa o potete andare anche a leggere le letture così noi stiamo seduti e ascoltiamo è più bellino noi siamo molto arretrati su questo no? siamo molto certo non è che le cose si possano cambiare dall'oggi al domani perché ci sa delle tare mentali che non finiscono più ma bisognerà cominciare a dire che la donna non è la risposta ai problemi dell'uomo la donna non è stata creata ma noi abbiamo pensato in qualche modo si è radicato dentro di noi no? che la donna è la risposta al problema dell'uomo e guardate questa cosa non è entrata solo nella testa dei maschi è entrata anche nella testa delle donne tanto che guardate nel racconto che cosa si dice ma io di questo volevo parlare la terza volta ma insomma ormai si dice qualcosa stasera dai arriva la donna ma se voi guardate nel racconto la donna non parla parla solo l'uomo e che cosa dice l'uomo questo è un brano che scelgono tante volte forse l'avrete scelto anche voi per il giorno del matrimonio da una parte suona che è bellino ma insomma ma la mentalità che sta dentro cioè se noi non si chiude il cervello se si continua a pensare questa volta è osso delle mie ossa carne della mia carne sembra quasi di dire una cosa mia la si chiamerà donna Isha perché dall'uomo Ish è stata tolta e pensate qui che gioco strano di parole no? perché l'uomo Adam è stato tolto dall'Adama ma in realtà Isha è la parola lunga è la parola che dà la completezza Ish è il mancante manca manca una in ebraico manca anche una consonante non solo una vocale e questo questo è veramente e qui su questa cosa su questa posizione io l'idea di stasera era perciò altre cose che comunque però intanto questa per me è proprio importante cioè qui si è formato l'idea in qualche modo di una non voglio dire superiorità ma anche di superiorità dell'uomo sulla donna perché capite abbiamo letto questo racconto così come se la donna è stata creata perché l'uomo poverino da solo si annoiava non era bene che fosse così e quindi questa lettura si fa proprio pericolosa tanto che la donna è viva ma qui non parla e sapete quanto è importante parlare parlare è proprio l'idea di essere vivi Dio disse dare la vita è anche vero è anche vero se si vuole andare nel più profondo sapete le parole ebraiche con cui è scritto l'Antico Testamento sono poco più di 5.000 quindi ogni parola e pensate che in italiano ci vogliono 120-130.000 parole perché perché nello sviluppo delle lingue abbiamo cercato di come si dice di selezionare sempre di più cioè di di specificare sempre meglio le parole per cui non so pensate quante parole ci sono per dire paura timore angoscia ansia è un campo semantico che le raccoglie tutte ecco nell'antichità non c'erano tutte queste parole ce ne erano sempre meno poi man mano abbiamo inventato altre parole per specificare meglio il sentimento che se anche era dentro un'unica famiglia andava specificato ecco le parole che vengono qui tradotte con osso delle mie ossa l'osso questa cosa la devo all'azio della Luisa che ne l'ha sentita dire a lui poi sono andato a vedere e aveva ragione Don Bruno osso l'osso è esattamente quello che tiene su la persona lo scheletro ma questo vuol dire che l'uomo riconosce in Eva Adamo riconosce in Eva ciò che la tiene su cioè la parte più vera di se stesso quindi in questo senso può essere carino ma vedete è tutto sempre riferito al maschio all'uomo e questa è una tara che ci siamo portati dietro esattamente come l'altra tara che ci siamo portati perché pensate quanto questa tanto nel primo capitolo quanto nel secondo capitolo la tara del Dio onnipotente che che non come si dice è impossibile dire non ci si fa a dire Dio non è onnipotente perché o è Dio è un affare che non se ne cava le gambe però per come noi possiamo parlare dai racconti della Bibbia Dio non ci viene mostrato come è raccontato nel catechismo della nostra Chiesa ci viene presentato come uno nel primo capitolo che fa le cose e poi si meraviglia e poi le lascia libere di essere se stesse quindi cede retrocede sulla sua onnipotenza ma nel secondo capitolo ancora di più Dio fa le cose e queste hanno bisogno di essere ritoccate di essere riguardate e la soluzione al problema che si è creato è una soluzione che va cercata con fatica forse dovremmo anche pensare e questa cosa credo che sia molto importante ci viene detto che il primo problema dell'uomo nel mondo ebraico dire il primo vuol dire l'origine è come dire da lì poi derivano tutti gli altri che il primo problema dell'uomo è quello di sentirsi soli non so questa domanda questa no questa domanda questo questa affermazione che cosa suscita dentro dentro di noi il primo vero problema dell'uomo è di sentirsi solo è importante questo guardate come tentiamo di risolvere questa solitudine i racconti ora qui siamo proprio alla seconda pagina della Bibbia quindi c'è tutto il resto dopo ma queste sono domande che dobbiamo farci questo racconto ci sta dicendo come se fosse una domanda sei uomo o sei già essere vivente c'è questo problema della solitudine pensate che che cosa strana che abbiamo fatto noi abbiamo leggevo oggi nel giornale nostro diocesano che all'inizio del mese di febbraio il nostro vescovo fa sempre la giornata per le suore insomma religiosi e c'è un articolone di queste delle suore nel giornale che dice abbiamo lasciato tutto perché innamorate di Gesù il titolo è bello io lo capisco c'è anche poesia in questo c'è un sentimento c'è la fede no? però questa solitudine a parte che poi le suore sono un po' come i frati un po' diverse dai preti quindi hanno comunque una forma di convivenza ma questa solitudine che viene addirittura indicata come il massimo come l'aspetto più importante addirittura più divino pensate il monaco il monos cioè ora non so probabilmente dico cose esagerate non lo so però a me sembra quasi di aver santificato quello che è il problema il primo problema dell'uomo la solitudine la solitudine la mancanza di relazione e non sentirti visto dagli altri e neanche vedere che gli altri ci sono e quando questo accade perché siamo soli è quasi più sopportabile ma quando questo ci accade siamo in famiglia quando questo ci accade siamo con le persone a cui vogliamo bene questo è il vero problema poi cerchiamo anche noi palliativi cerchiamo che ne so lo sport pensate conoscete persone che sono più appassionate dello sport e del calcio dei preti siamo tutti noi qui a Stia siamo tutti per la Fiorentina tutti appassionati non tutti devo dire non tutti basta andare a Prato Vecchio non credo che Massimo sia particolarmente però pensate un po' tutti i pagliativi con cui noi tentiamo in qualche modo di coprire questi bisogni e a volte anche nella vita di coppia si vuole che l'altro sia il riempimento della mancanza e qui questo racconto ci mette un po' ci fa un po' pensare questo sì le cose che mi volevo fissare erano queste due questa immagine di Dio che cerca che cerchi che non che fa ah perché guardate questa espressione quando si dice non è bene che l'uomo sia solo vi ho detto che in ebraico è proprio lo tov vi ricordate tov si diceva nel primo racconto che quando Dio vede e vede tutto che bello che questo tov non c'era quando viene creato l'uomo perché in qualche modo tov vuol dire anche fatto finito bello nel senso bello così non si tocca più quando c'è l'uomo c'è proprio lo tov non fatto non finito l'uomo deve trovare la vita è il tempo in cui noi ci dobbiamo completare finire questo è il nostro compito sulla terra e come come si fa questo compimento di noi stessi secondo questo racconto il compimento di noi stessi è nel coltivare e nel custodire il giardino perché questa è la cosa che ci viene affidata questo è il compito che ci viene affidato e come a me piace dire questa cosa e questa mi piace proprio dirla perché oggi ha un significato particolare dirsi che dobbiamo fare qualcosa per il nostro pianeta perché siamo di fronte al clima che aumenta allo smog all'inquinamento ai rifiuti tossici ai rifiuti nucleari siamo di fronte a tutto questo se non facciamo niente andiamo in rovina ma pensate quando queste cose sono state scritte non c'era lo smog non c'era non c'era l'anidride carbonica prodotta dal riscaldamento dalle macchine dai motori dal carbone non c'era niente di tutto questo non c'era il pericolo ma prendersi cura del creato era ciò che completava che faceva diventare l'uomo un essere vivente questa è un'immagine secondo me molto molto importante vedete poi dopo noi nella nostra fede questi racconti che crediamo molti preziosi poi li mettiamo non so da parte e crediamo che la fede viva solo di sacramenti viva di preghiere viva di devozioni in realtà pensate in questi due racconti tanto nel primo quanto capitolo che nel secondo capitolo ma questa cosa la vedremo poi in fondo alla fine alla fine del terzo capitolo forse anche anche più in là ma intanto la dico per ora quali sono stati i comandamenti che sono stati dati agli uomini il primo era vi ricordate crescete e moltiplicatevi il secondo era dominate soggiogate custodite e coltivate quindi prendersi cura del creato pensate un po' è come se Dio creando l'uomo gli desse poi che ne so in manuale ora dire manuale di istruzione non mi piace molto ma insomma una valigetta con le cose che contano questo è quello che hanno capito gli uomini poi e quali sono le cose che contano amare crescere moltiplicarsi amare la vita e prendersi cura del creato pensate quante persone la fede è un'aggiunta a volte questa fede ha sostituito questi primi due comandamenti abbiamo pensato che in qualche modo non fossero indispensabili questo è il motivo per cui io finisco questa riflessione di stasera pensando alle ultime due ma ci sarebbe anche la terza la prima encicliche di Papa Francesco una era sembra che legga la Genesi capite anche se l'ordine è inverso sembra che Papa Francesco sta leggendo la Genesi la laudato si prenditi cura del creato custodisci e coltiva e la seconda non è bene che l'uomo sia solo fratelli tutti e questo è davvero quello che conta nella fede abbiamo avuto non so quelli che di voi sono riusciti a sentirlo giovedì scorso questo Gilberto Squizzato un giornalista un regista che ci ha parlato della Fratelli Tutti siccome probabilmente era un pubblico differente ma mi piace sottolineare solo un pensiero perché poi se volete potete andare a vederlo sul canale YouTube ma mi ha colpito molto questo fatto perché poi ho riscontrato che è molto vero tutto sommato della laudato si ce ne sono al mondo ne parlano in tanti e a mosso sapete c'è addirittura un movimento mondiale di giovani della laudato si una cosa meravigliosa meravigliosa la Fratelli Tutti invece sembra già andata nel dimenticatoio e questo Gilberto Squizzato si è chiesto il perché perché la Fratelli Tutti è insomma ci mette tanto in difficoltà perché noi un po' ci siamo incancreniti nelle nostre solitudini che siano solitudini singole che siano solitudini di coppie che siano solitudini di nazioni nazionalismi che siano solitudini di uomini da sé e poi gli altri le piante gli animali da sé tutti i livelli di solitudine sono il nostro problema mi piace ci ha proprio pensato a questa cosa di guarda sembra che il Papa legga la Genesi no laudatosi e fratelli tutti ora l'ho fatta un po' più lunga di quello che credevo sono già le dieci ma volevo lasciare il discorso del peccato a quest'altra volta perché sarà ancora più devastante per la nostra mentalità mi fermo se qualcuno mi cheto così bevo e qualcuno vuole fare delle domande o un po' più lungo quindi non